Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, martedì 28 febbraio, siamo in diretta alle 7.30 e come sempre tra poco vedremo i giornali, il resto del carino del Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro e Urbino. Cominciamo dal Santo del Giorno, vediamolo subito con la grafica, oggi la Chiesa ricorda il Beato, Daniele Alessio Brottier è stato sacerdote, il sole è sorto alle 6.45 e tramonterà le 17.56. Allora vediamo il tempo, per la giornata di oggi il tempo sarà buono però stasera arriveranno le piogge, una roba veloce, una nottata con rovescio temporale sparsi anche sulla costa e sulle colline del Pesarese, il limite delle nevicate in serata attorno ai 1.100 metri. Attenzione, dunque le temperature sono in aumento, i venti, i venti sud-occidentali di Brezza Tesa, tratti moderati nel settore colinare e costiero, soprattutto a sud della regione, invece negli altri settori il vento sarà moderato o teso. Poi sarà invece fino a Burrasca, nelle zone interne Burrascaforto, tempesta lungo il crinale appenninico. Questa è per la giornata di oggi, lo ripeto, la pioggia arriverà soltanto nella serata, nella nottata. Per domani, vedete, già il tempo migliora, domani è mercoledì delle ceneri, oggi è l'ultimo giorno di carnevale, domani, dicevo, primo si entra in quaresima con un cielo che vedete ancora qualche residuo, fenomeno sparso nella mattinata, il limite delle nevicate attorno ai 1.000 metri, ma siamo al sud, per il resto il cielo sarà sereno. Le temperature sono in lieve diminuzione. Per il 2 di marzo, invece, giovedì, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature in aumento, il tempo sarà stabile, con un possibile peggioramento soltanto nelle giornate di sabato e domenica. Andiamo a leggere subito i giornali, la fotografia di una città che ha una crisi, dal punto di vista dell'edilizia, una crisi forte, ma di questo ormai ce l'avevamo accorti da un po' di tempo. In un decennio gli edifici sono aumentati del 42,5%, i valori crollati. In due anni 6,2% in meno. Una crisi favorita da un boom dell'edilizia sovrastimato. Boom edilizio nel decennio 2001-2011, il patrimonio registra, vedete, una crescita. Però il problema qual è? È che adesso abbiamo una marea di alloggi costruiti, ma che sono completamente vuoti. Ne parla anche la prima pagina del resto del Carlino. Case costano sempre meno, ma si continua a costruire. 7.000 rimangono vuote. La fotografia del patrimonio edilizio nel comune di Fano. Occorre passare da una politica di espansione urbanistica a una di trasformazione. Tutti questi dati che noi in questi giorni vi stiamo mostrando anche attraverso la rassegna stampa e i quotidiani, sono dati che vengono snocciolati in vista di Orizzonte Fano, di cui ce ne stiamo occupando anche noi in qualche approfondimento nel corso al termine del telegiornale. Orizzonte Fano con questo foro urbano che si terrà il 4 di marzo, il 4 di marzo nell'ex chiesa di Sant'Arcangelo e poi continuerà la memoteca Montanari, un foro importante nel quale tutti voi siete chiamati a dare il vostro contributo anche di idee per la Fano che verrà da qui al 2030. Questi sono dati che vengono snocciolati grazie anche degli studi che sono stati fatti per esempio dall'Università di Urbino. Dicevamo del carnevale, il pupo questa sera ci sarà il rogo, verrà bruciato e quindi si concluderà questa edizione del carnevale di Fano. Il pupo suggella un carnevale di fuoco, un congedo in grande stile per un'edizione che non ha deluso le aspettative. Mentre il sindaco Seri vola negli Stati Uniti, in Tennessee correrò la maratona, destinazione Chattanuga. E poi l'Istituto Cechi, siamo sempre sul Carlino, a Fano, c'è lo che è del Ministero, la Puglisi, missione compiuta, la senatrice del Partito Democratico è certa e dice a breve arriverà anche la nota ufficiale. Dalla pagina di Pesaro invece la cronaca con il racconto di Monica Sani con il suo gattino che dice mi hanno ammazzato il gatto con il veleno per le lumache. È successo a Villa Grande di Monbaroccio la dolorosa denuncia di una madre. Al terzo tentativo, dice lei, ci sono riusciti. Stavolta presento però denuncia perché tutto questo non è umano, eppure nessuno dei vicini si è mai lamentato, mentre le mie figlie hanno visto l'agonia del povero Micetto. E ancora da Urbino tutti aggrappati a Vittorio Sgarbi per salvare il turismo. Un summit di 24 sindaci, studiate nuove strategie, basta con il terremoto, nella comunicazione questa parola sarà vietata così come il termine mar che si punterà ad un riferimento leggermente a strato, si farà finta di essere quasi in Romagna. C'è anche la proposta di quella di coinvolgere in questa operazione di marketing per riportare i turisti nella nostra regione, anche la proposta di portare e di utilizzare Valentino Rossi, il pilota. Dunque queste sono le pagine interne, la prima pagina invece del resto del Carlino, la fotografia è per una notizia che si allarga rispetto al primo lancio, quello che aveva visto protagonista il ristoratore fanese che recentemente aveva ricevuto da un'agenzia o sedicente tale appunto la richiesta di denaro in cambio di pareri favorevoli su TripAdvisor o comunque recensioni positive per il suo ristorante. Si allarga questo fronte di quelli che dicono però no a queste recensioni online a pagamento e adesso vedete oltre a Ricci sulla destra, sulla sinistra c'è anche un'altra ristoratrice che vedete qua, un altro ristorante famoso della nostra provincia. Poi invece si parla sul resto del Carlino di questa mattina dei vitalizi agli ex consiglieri regionali che si pagano anche oltre la morte. Sono 141 di cui 107 sono viventi per un esborso di 4,2 milioni di euro all'anno e il resto del Carlino pubblica due pagine con tutte le cifre all'interno appunto del quotidiano. Restato anche il pusher, il venditore di droga dall'intestino pigro, sorpreso dai militari con la droga. Lui quando i militari gli hanno trovato la mannite ha detto beh io la uso per andare in bagno e quindi si è giustificato così. Ok andiamo sulla pagina invece adesso principale del Corriere Adriatico, il crack di Mulazzani, costruttore pesarese, si avvicina il giudizio per i furbeti, chiuse le indagini per bancarotta, rischiano imprenditori e tecnici. Sono stati sequestrati 60 milioni, poi 24 imprenditori coinvolti in questo crack Mulazzani tra Rimini, Pesaro, Senigallia e Fano, oltre ai titolari i nomi del settore edile ma anche studi di ingegneria tra Pesaro e Senigallia. Sono creditori che hanno avuto una via preferenziale al fallimento sottraendo risorse economiche destinate alla gestione della curatela. Dunque sfollati verso il trasloco dalla costa all'entroterra l'assessore Pieroni dice c'è chi dovrà cambiare hotel. I terremotati ovviamente vogliono a questo punto chiarezza. Andiamo adesso nelle pagine interne del Corriere Adriatico per parlare per esempio sulla pagina di Pesaro primo piano del picco di divorzi e del crollo dei matrimoni in chiesa. Ci sono dunque meno nozze, in dieci anni un progressivo allontanamento dal rito religioso. Scendono sempre più i matrimoni in chiesa, ormai sei coppie su dieci dicono il fatidico sì davanti al sindaco o all'assessore preferendo il rito civile. E al posto di andare in chiesa vanno nelle spiagge, vanno sui monti, vanno a fare matrimonio, a dire di loro sì guardando non al sacramento ma evidentemente a tutt'altro, roba che dura un battito di ciglia. Allora Marche Nord, il futuro è high tech, in sala operatoria debutta il robot, con il primo intervento al San Salvatore si è aperta la stagione del sistema da Vinci. Da Fano abbiamo visto la crisi edilizia, andiamo sull'altra pagina dove invece si parla del convegno che c'è stato nei giorni scorsi sul Carnevale di Fano. Anche qui è emerso che i carri sono poco curati e il pubblico è passivo, nel senso che a differenza per esempio di Venezia dove si mascherano, dove il pubblico è attivo, qua in realtà sono pochi quelli che si travestono e quindi si vestono da Carnevale e dunque il pubblico è pressoché passivo. Ecco che cosa non vale, critica nel dibattito con autori ed esperti d'arte. Forte aspettative per il centro sperimentale al Sant'Arcangelo dove sviluppare l'innovazione. Questa è la fotografia dell'incontro che c'è stato appunto qualche giorno fa da sinistra nell'ex chiede di San Leonardo, Bruscia, Piccinitti, Manna, Clapis, Deli, Rossi e Pacassoni. C'è anche la tentazione del biglietto d'ingresso perché è vero che la carnevalesca naspa con il bilancio, realizzare un Carnevale a un costo medio di circa 400 mila euro, ci sono quelli che sono contrari come Mazzanti e Berardi, però ci sono anche quelli che invece vorrebbero un Carnevale a pagamento e tra i benefici c'è il fatto che appunto potrebbero aumentare le risorse per l'ente. Dalla Valle del Cesano paura allo stadio nel derby, giocatore soccorso dal 118, l'infortunato è Danilo Brocca di 27 anni, è già stato dimesso domenica dal Santa Croce di Fano, dalla panchina lo scontro non si era notato, però ecco c'è stato questo scontro in campo e l'intervento del 118. Poi dalla Valle del Cesano, sempre da Pergola, l'ospedale depotenziato per Cuccaroni va bene così, il capogruppo di Pergola nel cuore replica alla tesi della minoranza. Da Senigallia invece la gang dei Casolari colpisce ancora, braccati i baby vandali di Marzocca dopo aver devastato una villetta, la banda ha distrutto un'abitazione adibita a ricovero di attrezzi ed ecco come è stata ridotta la fotografia sul giornale. Morto, l'albanese colpito la testa, cambia l'accusa per il carabiniere, ora il militare è indagato per omicidio colposo, gli investigatori sentono la fidanzata e la cugina della vittima. Il legale della famiglia del giovane critica il leader della Lega Nord Salvini, c'è una vittima rifletta prima di parlare di Encomi. A fuoco invece, siamo di nuovo a Pesaro, a fuoco il pullman degli studenti, in fuga 50 ragazzi dal Mengaroni, gli alunni stavano raggiungendo San Marino per una visita di istruzione quando si è incendiato appunto il motore dell'autobus. Io mi fermo qui, la rassegna stampa è finita, grazie per averci seguito, a voi tutti gli auguri di una buona giornata e vi ricordo il nostro numero telefonico per le segnalazioni Whatsapp che è sempre a vostra disposizione, stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.